Buongiorno Friuli e bentornati in nostra compagnia per la rassegna stampa sportiva, una rassegna stampa che iniziamo dalle pagine locali del Messaggero Veneto. Andiamo a vedere subito i titoli di apertura del fascicolo sportivo. C'è l'Udinese in primo piano con le ultime news su Nestorowski. Ecco il titolo di apertura. Altro che Fenerba c'è l'Udinese all'accordo siglato da Nestorowski. Smontate le voci dalla Turchia sull'attaccante Macedone. Il triennale sarà depositato una volta chiuso il caso Palermo. E poi vediamo le prime righe dell'articolo di Pietro Leotto che dice bisogna andare davvero per gradi anche se la vorticosa giosta del calcio mercato ne inventa uno al giorno pur di restare in aria. Anche quando si parla di Ilya Nestorowski, attaccante Macedone, sul quale ieri sono rifiorite delle voci nonostante il datato flirt con l'Udinese che porterà a un matrimonio orientativamente entro la prima settimana di agosto. già porterà in Turchia nelle scorse ore, ha preso quota l'ipotesi di un interessamento del Fenerba c'è per la punta di Prilep. Panico in casa bianconera ma che nel cassetto di Gino Pozzo c'è già un accordo sottoscritto da Nestorowski dopo una trattativa con il suo procuratore. Questa è la notizia che apre le pagine sportive del Messaggero Veneto che poi parla anche del contratto fino a giugno 2021 con Nicolas che sarà ancora il vice di Musso. Per quanto riguarda il lavoro dell'Udinese, bianconeri al lavoro al Friuli. I tifosi potranno assistere all'allenamento di Tudor questo pomeriggio alla Dacia Arena. Ma intanto andiamo a vedere com'è andato l'allenamento di ieri nel consueto servizio curato da Maurizio Ferrari. Al giro di boa della settimana l'Udinese torna a lavorare in doppia seduta con una mattina prettamente disputata tra palestra e campo della Dacia Arena dove il mister ha voluto ancora una volta tenere lontane le telecamere per lavorare sulla tattica. Nel pomeriggio, quello che è stato anche il primo pomeriggio per Cristo González al suo primo allenamento in attesa del completamento dell'Iter del trasferimento dal Real Madrid si è riaffacciato in campo con lui anche Juan Musso. Il pomeriggio è stato diviso in una prima parte di riscaldamento prima con il pallone parcheggiato, poi con il pallone utilizzato con le mani e infine un'ultima porzione dove i giocatori invece dovevano segnare sempre con assist con le mani ma segnare soltanto di testa. Poi via ad una serie di torelli e ad un'altra parte abbondantemente tattica dove il mister ha lavorato sui movimenti che vuole rivedere nel test di sabato contro il Ravenna la prima uscita stagionale alla vigilia della partenza per l'Austria. Lavoro che continua dunque in questa fase qui a Udine con ritmi abbastanza serrati e con la voglia da parte del tecnico croato di intravedere quel nuovo tipo di gioco anche con il gioco che parte da dietro come ci ha raccontato nella giornata di ieri Samir un gioco che deve essere più propositivo, più votato alla propensione offensiva alla realizzazione del gol con trame di gioco ben provate e riprovate in allenamento per la prima volta Igor Tudor può farlo fino dalle battute del ritiro e sta sfruttando ogni singolo istante di allenamento per inculcare ai giocatori questa nuova mentalità squadra che tornerà ancora al lavoro nella giornata di domani con una seduta a quella pomeridiana che sarà aperta al pubblico con la Dacia Arena che aprirà nuovamente i suoi battenti della Curva Nord con ingresso dalla campagna abbonamenti per permettere ai sostenitori friulani di essere vicini proprio prima della uscita stagionale a Tarcento contro il Ravenna e della partenza per l'Austria Ritorniamo sulle pagine del Messaggero Veneto per alcune notizie legate al mercato vediamo il friulano Niccolò Kudrig che giocherà nel Monaco ecco il titolo, già la scorsa stagione aveva salutato l'udinese convinto del progetto del club del Principato che lo aveva mandato a farsi le ossa in un'altra squadra e adesso lo ha richiamato alla base e poi per quanto riguarda De Paul in vacanza in questo momento De Paul con Dybala e Paredes aspettando novità dal mercato il bianconero con lo juventino e il regista del PSG ai Caraibi dopo la Coppa America con lui anche la compagna Camila e la piccola Francesca nata a gennaio a Udine e le voci riportate dal Messaggero Don Rodrigo Altoro a fare impossibile vuole la Champions nel taglio basso un flash anche su Trost e Kong di bronzo in Coppa d'Africa con la Nigeria ha battuto 1-0 la Tunisia nella finalina della Coppa d'Africa il difensore sarà a disposizione di Tudor con l'udinese tra circa tre settimane adesso per lui un periodo di vacanza andiamo sul gazzettino subito sulle pagine sportive del gazzettino del Friuli ecco qua la prima pagina e vediamo una foto di Becao in primo piano la linea verde già scalpita Becao e Gonzales convincono il difensore brasiliano si candida a essere il perno della retroguardia dell'udinese per molte stagioni l'ex Real Madrid si è allenato ieri con i compagni per la prima volta come abbiamo visto anche nelle immagini e difficilmente andrà in panchina scrive il gazzettino anche qui vediamo torna Nicolas il portiere sarà il secondo di Musso una notizia che troviamo di spalla nel taglio alto invece un piccolo richiamo dedicato a Svante Ingelson il trequartista danese pare destinato a rimanere in bianco nero e Tudor ha intenzione di valorizzarlo anche se salterà le sfide con Ravenna e Al Hilal e allora andiamo a sentire proprio l'intervista che abbiamo realizzato anche noi a Svante Ingelson Svante Ingelson, Svante innanzitutto dici come stai perché sappiamo che tu ad aprile hai avuto questo problema alla spalla però siamo fiduciosi perché ti abbiamo visto già allenarti sui campi del Bruseschi no sto veramente migliorando adesso sento benissimo però manca un po' di recupero per stare al 100% ecco è una stagione importante per te come per tanti giocatori perché sei stato sfortunatissimo l'anno scorso quanta vogliai di rimetterti in gioco? tantissimo perché come tu hai detto l'anno scorso è molto difficile per me però ho imparato tantissimo e quindi voglio stare qua e fare cose che posso fare come obiettivi invece il tuo personale e anche quello della squadra perché è chiaro sono i primi giorni di ritiro però c'è davvero una bella atmosfera il gruppo eh sì certo abbiamo tanto giocatori che rimane qua eh sì un bel gruppo per quanto riguarda la continuità a ripartire anche quest'anno con Mr. Tudor perché avete finito con lui avete finito molto bene il campionato e si riparte da quello eh sì è sempre importante con intuità però sì è importantissimo ecco invece per quanto riguarda un altro che aspetto molto importante Tudor ha detto che vuole cambiare un po' il modo di giocare ti aspetti di avere anche possibilità perché lui ti ha dimostrato prima dell'infortunio di tenerti in considerazione ha giocato ad esempio contro la Lazio una partita importante poi purtroppo ti sei fatto male speri di avere quello spazio e quella continuità? eh sì speriamo adesso non posso iniziare con la squadra quindi un po' più difficile ma faccio quello che posso fare e faccio 100% tra poco andremo dalla vice ispetrice Francesca Silvestri per l'aggiornamento traffico della polizia locale solo un flash sulle voci di mercato depola un passo dal Milan Vague al Nantes scrive il gazzettino chiudiamo questa pagina e apriamo adesso il collegamento con la centrale operativa della polizia locale di Udine al telefono con noi Francesca Silvestri che salutiamo buongiorno a lei la parola per raccontarci un po' com'è il traffico in città in queste prime ore del giorno buongiorno il traffico è scorrevole non ci sono problematiche di rilievo come vedete dalle immagini che vi ho inviato sì davvero tranquillo da segnalare comunque alcune piccole problematiche che potrebbero esserci nella mattinata in piazzale d'annunzio ci sarà un restringimento della carreggiata per lavori di allacciamento rete fognaria e questi lavori andano dalle 7.30 alle 18.30 quindi ci sarà un restringimento della carreggiata la stessa cosa anche in via Gorizia intorno al civico 102 restringimento della carreggiata volevo ricordare per quanto riguarda soprattutto il centro cittadino quindi la zona traffico limitato dell'area pedonale che è in vigore una proroga al 31-12 del 2019 per i permessi che hanno scadenza il 30 giugno 2019 relativi al trattito ZTL area pedonale questa proroga vale anche non solo per le vie del centro ZTL ma anche per i vicoli di via Grazzano quindi a meno che in futuro non ci siano provvedimenti tesi a razionalizzare diversamente la materia questi permessi sono validi fino al 31-12 2019 perfetto, grazie, grazie allora al vice ispettore Francesca Silvestri per questi aggiornamenti anche per quanto riguarda la proroga dei permessi per la ZTL allora chiudiamo il collegamento con la centrale operativa della polizia locale e riprendiamo la nostra rassegna stampa dove l'avevamo lasciata dalle pagine del gazzettino abbiamo voltato pagina però e siamo sulla pagina dedicata al Pordenone Camporese, muro nero verde Chiaretti il 10 si avvicina il difensore firma il contratto e diventa ufficiale so leggere il gioco arretrato e ho piedi buoni dice grandi manovre di mercato del Pordenone e a un passo anche l'ingaggio del terzino Berra è questa l'apertura e poi vediamo anche positiva la prima sgambata dei ramarri Tesser sperimenta ieri nell'amichevole con il Bordano in attesa di domenica quando il Pordenone affronterà in amichevole la SPAL andiamo anche sulle pagine del Messaggero Veneto torniamo sulle pagine del Messaggero Veneto e vediamo anche qui gli articoli dedicati al Pordenone ovviamente anche qui ci sono le voci di mercato in primo piano Camporese ufficiale scrive Alberto Bertolotto Berra, Zanone e Chiaretti quasi l'ex Foggia dice arrivo con grande entusiasmo il DS Matteo Lovisa punta a portare in nero verde anche Magnino è forte non c'è soltanto l'ufficialità di Michele Camporese difensore classe 92 svincolatosi dal Foggia il Pordenone ieri ha dato un'altra notevole accelerata al suo mercato il direttore sportivo Matteo Lovisa ha ingaggiato tre giocatori il terzino destro Filippo Berra classe 95 proveniente dalla Provercelli il laterale sinistro Luca Zanone classe 96 della Fiorentina l'ultima stagione a Siena e soprattutto Lucas Chiaretti classe 87 trequartista ex Foggia e Cittadella che ha così accettato senza pensarci troppo l'offerta dei ramarri e vediamo anche qui test col bordano spetta pobega aprire la goleada e poi abbiamo il tutto l'articolo che ci racconta un po' come è andata questa amichevole come detto domenica dopo la seduta del mattino a D'Arta Terme i Neroverdi si trasferiranno a Tarvisio dove alle 17 sfideranno la SPAL per la prima vera amichevole della stagione chi non riuscirà a recarsi in Val Canale potrà seguire la sfida in diretta su UD News TV in collegamento dalle 16 e 30 diamo un'occhiata anche agli altri sport cominciamo con il basket ci sono i gironi della della due Old Wild West le rivali nella Supercoppa sono servite sul vassoio Udine è finita nel girone con Verona Mantua e Ferrara passano le vincenti dei sette gruppi più la migliore seconda scaligerà Verona Stings Mantua e Club Basket Ferrara sono queste le avversarie della più Udine grifata Old Wild West nel girone di qualificazione della Supercoppa un torneo completamente rinnovato con un formato extra large che apre le porte a tutte e 28 le partecipanti del campionato di A2 al Via l'8 settembre il campionato invece partirà il 6 ottobre ci sarà anche la fase a orologio ecco qua poi tutto l'articolo che ci spiega un po' le date e le caratteristiche del prossimo campionato di A2 come detto dopo le 26 giornate di Regular Season l'ultima il primo marzo scatterà la fase ad orologio i due gironi si incroceranno e ogni squadra giocherà altre 6 partite per un totale di 32 la fase a orologio si concluderà il 19 aprile 2020 ai playoff accederanno le prime 8 del girone est e le prime 8 del girone ovest che andranno a formare due tabelloni distinti con in palio altrettante promozioni in serie A si partirà dai quarti di finale quindi si giocherà un turno in meno rispetto alle ultime edizioni ancora sempre per quanto riguarda il messaggero veneto vediamo anche questa foto di De Marchi il grazie di De Marchi mi state aiutando a rialzare la testa dopo la caduta al Tour de France il buiese riempito di messaggi dai tifosi operato alla clavicola dovrà restare ancora in ospedale e poi la scherma con la sconfitta delle spadiste azzurre ai mondiali Mara compleanno amaro il mondiale finisce subito Navarria da ieri 34 anni è stata eliminata ai sedicesimi dalla tedesca Ndolo niente da rimproverarmi dice l'imperfetta condizione fisica mi ha condizionato adesso devo pensare alla gara a squadre dove ci giochiamo il pass olimpico chiudiamo questa pagina del messaggero Veneto adesso e andiamo a dare un'occhiata in chiusura alle prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali avevamo già visto proprio all'inizio della nostra rassegna stampa la prima pagina della gazzetta dello sport che dedica l'apertura all'Inter a Conte Kung Fu Conte titola la gazzetta tecnico perplesso una turnerebus senza gli attaccanti che vorrebbe lo attendono lo United il PSG e soprattutto la sfida con la Juve davanti a Suning l'allenatore voleva subito Lukaku e Zeco ma per ora ha i baby bomber contro le corazzate d'Europa Inter in Oriente a mani nude scrive la gazzetta di spalla un'inchiesta carissimo agente quanto mi costi a Raiola 10,5 milioni per De Ligt ma il fenomeno commissioni è globale quasi 2 miliardi in 5 anni per gli agenti e poi De Ligt Juve mi ispiro a Scirea e Cannavaro lo United chiama Di Bala Perin non supera le visite niente ben ficca scrive la gazzetta dello sport nel taglio basso il Milan tenta il colpo Correa contatti con la punta dell'atletico ma il costo è elevato 55 milioni le piste Cutrone Wolverhampton e Silva Monaco per finanziare l'operazione qualche approfondimento sulle punte sui giocatori top che diventano tappi Cavani Isco Bale quando nei club i giocatori top diventano tappi non solo i guai nei card in Europa sono molte le grandi società in stallo e poi il presidente del Brescia Cellino attacca riforme subito mercato folle mi tengo Tonali la A è ricca ma i club piccoli hanno meno soldi no alla Super Champions andiamo anche sulla prima del Corriere dello Sport vediamo in apertura Chiesa ha vinto Rocco la Juve si defila Federico resta a Firenze il muro di Comiso ha retto l'urto Paratici che spingeva il calciatore allo scontro è rimasto spiazzato Viola e euforici boom abbonamenti la legge antica di un padre procuratore scrive il Corriere dello Sport commentando questa notizia e poi vediamo nel taglio basso Iguain accordo Juve-Roma la promessa dei bianconeri e il pressing di Petracchi patto per il Pipita già in giallo-rosso e poi nel taglio alto i pirati della TV uccidono il calcio la Lega lancia l'allarme individuare e spegnere i siti illegali e inasprire le sanzioni 5 milioni di italiani vedono le partite senza pagare e questo il dato al centro dell'articolo del Corriere dello Sport andiamo anche sulla prima pagina di è tutto sport e vediamo la Juve in primo piano il titolo nel nome di Scirea ore 10 De Ligt si presenta ufficialmente sui social una sua foto da bambino con la maglia della Juve fra i miei modelli c'è anche Gaetano oggi la partenza per Singapore Chiellini in dubbio per un guaio al polpaccio per il Benfica stop non ha superato le visite mediche come abbiamo letto anche sugli altri quotidiani nel taglio alto invece il Toro serve di più Mazzarri lo striglia doppietta di Belotti nel 3 a 2 con la Propatria ma passo indietro a una settimana dall'Euro debutto con il Debrecen il tecnico ha detto in Coppa le bischerate sono vietate al fila rivedremo molte cose verdi più vicino chiudiamo questa prima pagina di tutto sport e chiudiamo anche questa seconda parte della nostra rassegna stampa come sempre prima di salutarci vi ricordo i principali appuntamenti di oggi su Dnews TV come ogni giorno alle 17.30 la diretta di pomeriggio calcio per seguire assieme l'allenamento pomeridiano dei bianconeri e poi alle 21 giustissimi estate i consigli di Paolo Ottoboni per un'estate alla moda assieme a Giorgia Bortolossi noi ci rivediamo alle 11 per la prima edizione del nostro TG vi lascio come sempre in chiusura in compagnia di Guido Gomirato con la sua rubrica Accadde Oggi buona giornata a tutti il 19 luglio 1983 si riunisce a Roma la giunta del CONI deve esaminare il ricorso dell'Udinese per quanto concerne la posizione di Artur Zico dopo che il presidente della Feder Calcio Federico Sordillo aveva bocciato il contratto di acquisto del brasiliano la giunta del CONI deve anche esaminare il contratto di Sereso acquistato dalla Roma e anch'esso bocciato dal presidente del massimo organismo calcistico italiano il giorno seguente la giunta del CONI ascolta una delegazione dell'Udinese ascolta anche una commissione del CONI ascolta anche una delegazione della Roma poi il 21 ha già le idee chiare qualcuno sostiene che ha già emesso il verdetto verdetto che poi viene chiuso in cassaforte e il 23 di luglio verso mezzogiorno ecco che la sentenza viene resa nota e Zico e Sereso vengono riabilitati immaginatevi le feste soprattutto in Friuli nel ritiro dell'Udinese che si trova a Tervisio a Udine e finalmente Zico potrà giocare con l'Udinese Un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un'un